Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La Lega di Serie C si è costituita in giudizio contro i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo al Consiglio di Stato. Tale costituzione in giudizio è una cosa piuttosto inusuale, perché la controparte in genere per le licenze nazionali è la FIGC e non la Lega, che dovrebbe essere un organo terzo ed equidistante. La Lega non si è quasi mai costituita in precedenza e il fatto che si sia costituita significa che il provvedimento monocratico cautelare che ha sospeso la decisione di escludere il Campobasso e l'accoglimento dell'istanza del Teramo di abbreviazione dei termini con il rinvio all'udienza collegiale del 25 agosto ha messo paura al presidente Francesco Ghirelli. La Lega in passato è intervenuta solo nei casi in cui è stato messo in discussione il proprio operato o sono stati tirati in ballo i capisaldi del sistema, come quello delle licenze nazionali, o ancora quando il giudizio rischia di arregare un danno alle proprie associate. La Lega, rappresentata dai legali Astolfo e Alessio Diamato e dall'avvocato Giorgio Pierantonio, ha presentato appunto la propria memoria di costituzione contro il Campobasso e il Teramo, senza mai averlo fatto nei gradi precedenti, in cui si parla di un danno che potrebbe essere arregato al sistema calcio e alle 60 squadre di Lega Pro che hanno avviato già le attività agonistiche. In buona sostanza la Lega ha voluto prendere le difese di tutte le altre squadre che si ritengono partilese. Sia il Campobasso che il Teramo hanno il diritto a difendersi, a far valere le proprie ragioni, nulla da eccepire in questo, ma la Lega, costituendosi in giudizio, vuole vigilare sull'andamento del processo davanti al Consiglio di Stato, il cui esito è tutto da scrivere. Dunque la battaglia tra Campobasso e Teramo, da una parte FIGC e Lega Pro dall'altro, si deciderà domani davanti al Consiglio di Stato, in cui il presidente facente funzioni sarà Paolo Lotti, mentre il relatore sarà Giorgio Manca, proveniente dal Tar Sardegna. Gli altri consiglieri saranno Perotti, Di Matteo e Bottiglieri. Molti esperti dicono che la strada sarebbe stata assegnata dal presidente della quinta sezione, barra Caracciolo. La difesa dei Molisani e dei Biancorossi è stata affidata allo studio di Cinzio Ferrari. Il CONI avrà come legale Alberto Angeletti, mentre la FIGC sarà assistita da Giancarlo Viglione. Nel caso in cui domani dovesse essere accolto il ricorso del Teramo per la Serie C o per la Serie D, tutto sarebbe messo o rimesso in discussione, a partire anche dal destino della neonata associazione Città di Teramo.